Quando ero un ragazzo il cinema, un certo tipo di cinema è diventato importante per me perché alcuni film mi hanno profondamente emozionato, cambiato il mio modo di vedere il mondo e uno in particolare, ne ricordo, il primo che mi viene in mente è che da allora io non ho mai più voluto rivedere perché è così forte la sua impressione. Era un film ambientato in un luogo molto lontano che parlava però, mi sembrava che parlasse esattamente della nostra, della mia, della nostra esperienza del nostro difficile rapporto con le famiglie, con la società, persino con il paesaggio urbano in cui vivevamo e mi ha veramente toccato nel profondo e questo film si intitola Family Life ed è di Ken Lodge.